con il layup sbagliato da parte di la torre e quindi andremo meglio nel giro nel giro nel ritorno è stata una partita difficile all'inizio soprattutto perché non riuscivamo a trovare il ritmo giusto ma fortunatamente ci siamo ripresi nel secondo tempo e ce la siamo portata a casa sicuramente si è vista una squadra totalmente diversa nel secondo tempo che ha subito scavato il solco che poi si è portato alla fine ma sì sicuramente quest'anno stiamo lavorando molto sull'intensità e se lavoriamo così è difficile batterci